ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono mazzi come sapete l'altro ieri si è concluso il concorso diciamo non concorso il contest e questo era questo che vedete nel video dell'account del vincitore che sono andato a mandare per il vincitore invece volevo dirvi una cosa allora io in settimana pubblico dei video quindi comunque come dissi in precedenza se voi condividerete i miei video e diciamo comunque commenterete sarete presenti io premierò quello più attivo purtroppo la settimana scorsa non è stato così non ha potuto ci sono delle volte anche che non posso fare questo discorso quindi abbiate un pochino di pazienza ma io affido le cose al bucio di culo in quel caso quindi non è che io stabilisco tizio deve vincere che io non deve vincere purtroppo c'è avuto bucio di culo e ha vinto quindi non me ne fate una colpa purtroppo perché anche io insomma ho qualche impegno non è che posso stare sempre lì a guardare come avete visto alcuni giorni faccio video alcuni giorni non ne faccio alcuni giorni faccio un solo video quindi è perché comunque c'ho una vita oltre youtube non è che vivo su youtube e vivo con youtube cioè non è che mi porta al pane a casa insomma intendiamoci ragazzi quindi comunque sia voi comunque continuate perché il contest dai lunedì in pratica si chiude dal martedì dopo di ogni settimana ragazzi i contest sono sempre aperti poi io la domenica andrò a comunicare in base al tempo che io ho in che maniera farò il contest lo so voi direi bella inculatura no ragazzi purtroppo non è un'inculatura e non sto facendo questo per farvi iscrivere e basta voi sapete che io comunque ho già regalato degli account quindi non la godete lì che inculo qualcuno è solo per mancanza di tempo comunque sia voi continuate a condividere i miei video continuate ad iscrivervi al canale e io domenica la domenica vi farò sapere in che maniera verrà estratto questo contest ragazzi purtroppo come ho già detto non è una mossa tattica ma solo mancanza di tempo quindi io spero che voi capiate quello che vi sto dicendo iscrivetevi al canale se volete partecipare al contest settimanale perché come ho già detto io faccio un contest a settimana regalo un account a settimana ragazzi quindi chi vuole questa opportunità si iscrive al canale sia attivo sul canale commenti i miei video e condivida i miei video ragazzi e questo ci tenevo a precisare per questo video è tutto un saluto da maxi e al prossimo video ciao a tutti 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 ciao a tutti